Un commento sul risultato. Oggi il risultato per noi era troppo importante, quindi volevamo vincere perché sapevamo l'importanza di questa partita. Quindi credo che abbiamo, anzi sicuramente abbiamo vinto in maniera meritata, dimostrando quali sono le nostre qualità e quali sono ancora i nostri difetti su quali bisogna lavorare. Quindi andremo avanti ovviamente con un po' più di entusiasmo, però almeno per quello che mi riguarda, con la consapevolezza che c'è ancora molto da fare. Però la strada è quella giusta e l'avevamo già visto nella partita con Schivenek e con l'Aiduk. Credo che sono state due partite dove meritavamo due risultati diversi e non sono arrivati. Oggi va bene così, però ancora voglio pensare che c'è tanto da lavorare e tanto da migliorare.